Qualcuno può dire, ma questo era un arabo, attenzione, era sciita, era sunnita, da dove veniva, perché era lì. È troppo complicata per essere condita via. Il primo ministro, mi pare, il primo ministro turco si è aspettato a dire che era... È una ragione in più per essere cauti, perché spesso e volentieri, l'abbiamo potuto vedere in questi anni, la risposta della Turchia non è stata direttamente proporzionale ai fatti, ma direttamente proporzionale alle proprie necessità di politica interna. Cioè la Turchia con Erdogan in questi anni ci ha insegnato di essere molto cinica, anche sfruttando circostanze di guerra come quello che è avvenuto in Siria per regolare i conti con i kurdi. Quindi attenzione a definire questo come un semplice episodio legato all'ISIS piuttosto che altri aspetti. È sicuramente un'altra delle sfaccettature di questa difficilissima situazione di politica estera che sta contornando la guerra all'ISIS. Che cosa succederà nei prossimi giorni ci aiuterà a capire quali sono i veri contorni di questa vicenda. La Turchia in questo dimostra ancora una volta la sua ambiguità. è un soggetto totalmente schierato con chi fa la guerra all'ISIS o è quel soggetto che da una parte importa anche il petrolio piuttosto che tiene i rapporti con la stessa monarchia saudita. Il paradosso è che ti viene descritto questo come un saudita. Sono troppe le cose che rendono complicata questa vicenda. Lo stesso leggerlo come un attacco fatto ai tedeschi, alla Germania. E per quale ragione la Germania, non i francesi, piuttosto gli italiani, gli americani o altri? No, cautela soprattutto perché si tratta, ripeto, della Turchia di Erdogan.